oh 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 rieccoci qua con la guida di pokemon rumble io sono il g1 jinx con e sono tommyash 92 mentre il g2 è occio 53 e il g3 che oggi non ha tanta voglia di parlare piash forse non sentiremo piash questa volta ma comunque andremo alla frateria vento secondo me oggi si scompiglia i capelli perchè ce l'ha tante pokemon umano olio è un meccanismo cosa ci trovano tutti umani creato di pokemon proprio niente non capisco di quello che possa essere umano uè piano ratata uè uè oggi voglio fare il napoletano uè oggi voglio fare cos'è non me ne frega che lingua è il boss neanche me ne ricordo chi è però sospetto che potrebbe essere potrebbe essere un po' come il tipo erba o di volante io dico volante ma che fai 850 e ti incorda ma ti piace solo perchè sei battuto zinx che adesso uso io io ti capisco però io ti io mi cambierei oh yeah brutti besti del cavolo ci abbiamo già un cadavere nooo dobbiamo farci la tomba no nooo povero cadavere sa fare frustata come mi metterai un weeping bell oh la la ma anche dentro qua è vero mi pare che ce l'ho ex e tutte ci attacco pioggia ce l'ho solo due attacco pioggia insieme al seguito è un attacco molto strano attacco pioggia rimbalza anche bind mi ricorda bomba e niente un po' mi ricorda anche un po' energipalla qua sono un ex kit e due best fruit proprio niente di azzecchato questo qua questo qua mi pare che fosse seme bomba mi pare che fosse seme bomba mi pare che fosse seme bomba te cosa ne pensi a un sciocinpante? eeeh non si sa forse avrebbe più che essere attacco pioggia se ti togli forse capiamo ehm eeeh quale era seme bomba mi cambio mi rimetto non piace che ballo poi mi pare che nella seconda o prima serie Jinx ce l'aveva Brock e quando usciva ci dava sempre il bacio ci dava il dolce bacio insomma lo baciava ma in un modo che mi ricorda Croiank quindi i pochino sfigati capitano sempre a Brock mi piace è strano quel personaggio lo spiego io poi tanto per accennare non so se farò se riuscirò a fare tutta la guida intera forse però già farò un bel po' di parti però la guida intera per adesso non me la posso permettere perchè già la devo finire sul mio vero file ma non preoccupatevi che la finirò presto sul mio vero file e riterò pensavo fosse mi piace mi piace Jinx Jinx c'hai un paio di Jinx da prestare lo avevo previsto con tutti quei pigi quei pigi mi avevano dato un'ispirazione che il boss poteva essere lui voglio ecco questo è un epic fail un epico fallimento per colpa di oggi 53 che ci ha spiegato due vinte eh? comunque adesso non ci interessa molto che l'epic fallimento va eh vabbè si avrà fatto il royal che adesso noi faremo sempre alla fine potrei cambiare pokemon? questo è davvero un epic fail io comunque ci voglio riprovare e penso anche i miei compagni lo vogliono fare per vendetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti